Tutelare il mestiere del pescatore, i nostri mari, le aree marine protette ma soprattutto i prodotti ittici che arrivano sulle nostre tavole. La regione Campania da anni è in campo per perseguire nel breve periodo azioni di tutela delle risorse del mare attraverso politiche di contenimento dello sforzo pesca. La crisi degli stocchi ittici tuttavia e l'esplosione dei consumi alimentari tendono la corda in direzioni opposte e pongono nuove sfide che richiedono nuovi strumenti e nuove visioni. A Ischia il flag i porti di Velia ha chiesto ad Anfosc preseduta da Roberto Rubino di realizzare una giornata di riflessione conviviale sul tema del pesce come prodotto di eccellenza della piccola pesca costiera. Chi fa la differenza sono i pascoli di mare come i pascoli di montagna fanno la differenza nel latte e su quelli bisogna puntare per poter imporre quasi e far capire al consumatore che una qualità diversa esiste e la si può anche dimostrare. Presente ai lavori anche l'assessore regionale alle politiche agricole, alimentari e forestali Nicola Caputo che ai nostri microfoni sul mondo pesca si è così espresso. Dobbiamo proteggere la piccola pesca non solo perché dobbiamo salvaguardare i piccoli pescatori ma anche perché attraverso essa si pescano dei pesci davvero di grandissima qualità. Nel corso della giornata di confronto svoltasi al Danì Maison dello chef Nino Di Costanzo si è discusso di quale sarà il futuro dei pescatori, quali i problemi per il comparto ma anche di impianti di acqua cultura sostenibili e depauperamento della risorsa mare. La direttrice generale politiche agricoli, alimentari e forestali della regione Campania Maria Passari Il pesce allevato che è il futuro sicuramente è il pesce da stock ittico naturale dovrebbe in un qualche modo forse costituire il brand di promozione di questo che è ormai diventata una nicchia rispetto alla produzione.